Gli audio racconti, serie Solar Pons, l'enigma di Norcross, di August Derleth, letto da Adama. La deduzione è una dottrina che si basa principalmente sull'attitudine all'osservazione, disse Pons volgendo verso di me lo sguardo pensoso dei suoi occhi profondi e penetranti, mentre l'ombra di un sorriso gli sfiorava le labbra sottili e ferme. «Codarsi che abbiate ragione», risposi, «ma io trovo che buona parte delle mie cosiddette osservazioni hanno la loro origine nell'intuito. Voi che cosa ne pensate?» Pons fece una risatina. «Non lo nego, chi più chi meno ricorriamo tutti all'intuito, ma per arrivare a conclusioni esatte bisogna anzitutto saper osservare». Si girò per frugare fra le carte sparpagliate sul tavolo accanto alla poltrona. Scelto nel mucchio un comune biglietto da visita, me lo lanciò attraverso il tavolo. Che cosa vi dice il vostro intuito a proposito di questo? Sul cartoncino stampato in rilievo si leggeva «Benjamin Harrison Manton» in un angolo a caratteri più piccoli «Norcross Towers». Sul retro, manoscritto «Sarò da voi alle tre». «Il mio spirito di osservazione mi dice che questo signore ha usato una penna dalla punta larga. La calligrafia è quella di un uomo deciso e risoluto. L'ortografia è corretta. Il mio intuito mi dice che è un uomo intelligente». Il sorriso di Pons si trasformò in una risata. «Perché? Voi cosa ne deducete?» domandai un po' piccato. «Non molto di più, amico mio», rispose Pons in tono da competente. «Soltanto che il gentiluomo in questione è nato negli Stati Uniti d'America, ma risiede in Inghilterra da un certo periodo di tempo, che dispone di larghi mezzi finanziari e che la sua età uscilla tra i 35 e i 39 anni. Inoltre, probabilmente, la sua famiglia è originaria di uno degli Stati del Sud, ma è fuori di dubbio che i suoi genitori debbano aver simpatizzato per il Partito Repubblicano». «Voi lo conoscete?» «Sciocchezza, Parker!» Pons prese in mano il biglietto da visita e continuò. «Guardate. Il cognome Menton, che è indubbiamente di origine inglese, è più comune negli Stati del Sud che in qualsiasi altra regione degli Stati Uniti. È vero che nel Sud politicamente predomina il Partito Democratico, ma mi pare logico supporre che i genitori di Menton fossero di tendenze opposte, visto che gli hanno dato il nome di un presidente leader del Partito Repubblicano. «Beh, fin qui è chiaro, dovetti ammettere. Appunto, Parker. Ma l'intuito non c'entra. È soltanto frutto di osservazione. E ora facciamo un test. Ditemi come posso sapere che dispone di larghi mezzi». «Beh, viene alle tre. Se non avesse una posizione indipendente, non potrebbe lasciare il lavoro così, a metà pomeriggio», azzardai. «Potrebbe anche aver chiesto un permesso per venire da noi. Obiettò Pons. Guardate meglio il biglietto da visita. Beh, è il rilievo. È un procedimento che costa più caro della semplice stampa. Bravo, Parker. Forza, state facendo progressi. E il cartoncino, sebbene non sia pretenzioso, è di ottima qualità. Lo guardai in trasparenza contro la finestra. Materiale importato dall'Italia, a quanto vedo. «Eccellente, amico mio. Ma come fate a sapere che vive in Inghilterra da un bel po' di tempo?» «Fra tutte è la cosa più elementare. Egli ha comprato o preso in affitto una casa di campagna. Norcross Towers. È senza dubbio il nome di una vecchia residenza padronale disertata dai proprietari. Ma per quanto riguarda l'età, protestai, «Come è possibile che vi basti guardare il suo biglietto da visita per sapere quanti anni ha?» Questo è di una semplicità addirittura puerile. Ancora oggi negli Stati Uniti è di moda dare ai neonati il nome del presidente in carica. Indubbiamente la consuetudine nasce anche dal fanatismo che gli americani nutrono per i loro grandi uomini. Harrison è stato presidente dal 1889 al 1893. Ne consegue che il nostro sconosciuto deve essere nato in uno dei quattro anni che vanno dal 1889 al 1893. Io propendo per i 39 anni, perché fu nel periodo iniziale che la tendenza a dare ai bambini il nome del presidente si manifestò con maggiore frequenza. Alzai tutte e due le braccia. Getto la spugna. Ponce sorrise. «Bene, ormai sono le tre e non mi sorprenderei se il nostro cliente fosse in arrivo». Mentre stava dicendo questo, squillò il campanello e, dopo il solito scalpiccio su per le scale, la signora Johnson introdusse nel nostro studio un uomo dall'aspetto giovanile, dai capelli neri, dal volto perfettamente rasato, parzialmente nascosto da occhiali scuri cerchiati di corno. Si fermò di fronte a noi appoggiandosi a un bastone da passeggio. Vestito con sobria eleganza, teneva un berretto d'automobilista, il che lasciava supporre che venisse da fuori città, verosimilmente dalla sua residenza di campagna. Il nostro visitatore ci guardò, l'uno e l'altro, ma prima ancora che la signora Johnson si fosse chiusa la porta alle spalle, il suo sguardo si fermò su Ponce, e fu a questi che gli indirizzò la parola. «Siete il signor Solar Ponce?» domandò con voce bassa e pronuncia perfetta. Il mio amico Annui. «Vogliate accomodarvi, signor Menton?» «Grazie». Contegnoso, ma senza affettazione, il nostro cliente prese posto su una sedia, e immediatamente lanciò verso di me uno sguardo interrogativo. «Il dottor Parker è il mio assistente», disse Ponce. «Qualsiasi cosa diciate, il suo riservo è garantito». Dopo avermi indirizzato un cenno del capo, Menton si rivolse di nuovo a Ponce. «I fatti che mi hanno indotto a consultarvi sono misteriosi e sconcertanti, signor Ponce. Non so se alle radici ci sia o meno un fatto criminoso. Comunque non posso permettermi che trapeli anche una sola parola in merito. Potete contare sulla nostra discrezione», lo rassicurò Ponce. Menton annui distrattamente, e per alcuni momenti rimase in silenzio, come se non sapesse bene da dove cominciare. Finalmente, alzò lo sguardo e cominciò a parlare. «Gli avvenimenti si sono svolti nella mia residenza di campagna, Norcross Towers, di cui sono il proprietario da poco più di sei mesi. Premetto che l'ho comprata per far cosa gradita a mia moglie, che vi aveva già abitato prima del nostro matrimonio. Ora è di nuovo padrona della sua antica dimora. Ho avuto fortuna, i miei affari sono andati bene, e perciò posso permettermi una casa in città e una in campagna. Ma siccome sono costretto a trattenermi quasi sempre a Londra, spesso mi manca il tempo di raggiungere mia moglie a Norcross Towers. Un mese fa, però, ci sono andato con l'intenzione di trascorrervi una breve vacanza. Ho approfittato dell'occasione per visitare a fondo la proprietà, cosa che ancora non avevo potuto fare, appunto per mancanza di tempo, sebbene avessi comprato la villa già da molti mesi. Vogli anzitutto andare a vedere le paludi. È là che perse la vita il primo marito di mia moglie. Pons, che se ne stava seduto con gli occhi chiusi, subitamente alzò lo sguardo sul nostro visitatore. La palude che si trova nel perimetro dei vostri possedimenti è forse chiamata Max Fence? Menton Annui La gente del posto l'ha denominata col nome del primo marito di mia moglie. Allora vostra moglie un tempo è stata Lady MacFellan? Esatto. Ci siamo sposati sei mesi dopo la tragica scomparsa del suo primo marito. Scott MacFellan Mentre stava attraversando la palude con i suoi cani e un servo, cadde in un pantano e venne inghiottito dal fango. Secondo quanto ho sentito dire, il servo indicò il punto esatto dove era sprofondato il suo padrone. Menton annui di nuovo. Sì, è andata proprio così. Continuate, signor Menton. Quelle paludi, proseguì Menton, sono molto estese e, come in genere tutte le paludi, consistono in uno stagno interrotto qua e là da piccoli isolotti di terraferma. Nel mezzo di questa distesa di pantani vi sono ancora le rovine di un'antichissima costruzione, una vecchia abbazia, costruita in pietra viva. Un'ala è rimasta pressoché intatta. Mi ero messo in testa di visitare i ruderi e, così, un pomeriggio, da solo, salito in macchina, mi diressi verso l'abbazia. Un tempo per raggiungere il vicino villaggio di Hecton bisognava fare un lungo giro vizioso. Per eliminare questo inconveniente ho fatto costruire una strada che attraversa la palude, strada che è aperta al pubblico, naturalmente. Mentre mi dirigevo verso le rovine, mi ricordai di aver dimenticato di dare istruzioni al mio segretario circa un affare alquanto importante. Decisi perciò di andare prima ad Hecton, da dove avrei potuto telegrafargli, rimandando a più tardi la visita alla vecchia abbazia. Ma quando ho presi la strada del ritorno, era già caduto il crepuscolo e non avevo nessuna voglia di vagare fra le rovine facendomi luce con una torcia a mano. Arrivato nei pressi di casa mia, incrociai una macchina che filava a grande velocità in direzione di Hecton. Al momento non ci feci caso, anche se raramente avviene che qualcuno usi la scorciatoia per raggiungere il villaggio. Avete osservato bene l'automobile? Non in modo particolare. Era un macchinone da turismo, una Daimler credo, ma non potrei dirlo con certezza. Comunque vidi che era occupata da tre persone e questo lo notai soprattutto perché una delle tre sembrava sofferente. Da che cosa è scaturita questa impressione? Beh, dal fatto che sul sedile posteriore c'era un uomo tutto imbacuccato e avvolto in coperte. Incrociando, mi parve di vedere che il compagno seduto accanto a lui cercasse di confortarlo. Ponce annuì e fece cenno a Menton di continuare. Dimenticai subito l'episodio e rientrai in casa per la cena. A tavola notai che mia moglie mangiava pochissimo e mi allarmai temendo che qualche cruccio la turbasse. Qualcosa di simile era già successo altre tre volte. Un certo disagio, un po' di nervosismo, ma io l'avevo attribuito ad un malessere fisico passeggero. Quella sera, tuttavia, era chiaro che faceva il possibile per sembrare normale e simulava di mangiare come se si sentisse benissimo. Cosa strana per mia moglie che è una donna molto schietta. In passato, quando le era capitato di sentirsi poco bene, aveva sempre evitato di caricarsi lo stomaco con cibi pesanti. Le domandai se fosse ammalata, se c'era qualcosa che potessi fare per lei, ma mia moglie negò di essere indisposta e anzi raddoppiò gli sforzi per apparire a suo agio. Cercai di non pensarci più. Finito di cenare andai nel mio studio dove poco dopo mi raggiunse mia moglie. Notate, signor Pons, che il mio studio dà sulla brughiera e che proprio di fronte vi sono i ruderi, perfettamente visibili dalla bassa finestra davanti alla quale mi ero seduto a leggere. Quando chiusi il libro erano circa le dieci. Signori miei, potete immaginarvi la mia sorpresa vedendo che fra quelle mura diroccate erano stati accesi due lumi, uno dei quali si spense proprio mentre io guardavo laggiù. L'altro invece si spostò dando l'impressione che qualcuno lo portasse da una stanza all'altra dell'ala rimasta ancora intatta. Poi anche questo secondo lume si spense. Mia moglie che era seduta di fronte a me e quindi non poteva aver visto le luci notò la mia sorpresa e me ne domandò ragione. C'è qualcuno nell'abbazia? le risposi. Ebbe un'esclamazione soffocata poi un po' turbata disse o mi ero scordata di dirtelo ho affittato i ruderi per due mesi. Rimasi di stucco ma mi ripresi quasi subito e domandai a chi li avesse affittati. Indugiò abbastanza a lungo prima di rispondermi di averli affittati a un professore un medico psichiatra che aveva portato laggiù un malato di mente con il suo guardiano per avere la possibilità di mettere sotto osservazione il suo paziente in condizioni di assoluto isolamento. Lì per lì la cosa mi stupì ma poi mi ricordai dell'automobile che avevo incrociato tornando a casa e pensai che l'ammalato non doveva essere altri che il paziente dello psichiatra. Non mancai di far osservare a mia moglie che avrebbe dovuto prima chiedere il mio parere e questo parve ferirla tanto da farmi notare che volendo potevamo mandar via quella gente. Naturalmente non vogli neanche sentirne parlare. Comunque mi piacerebbe scambiare due chiacchiere con questo professore dissi. Io non l'importunerei Benjamin rispose mia moglie. Beh non credo che vi sia niente di male se vado laggiù in fin dei conti la proprietà è nostra e loro non sono che degli inquilini provvisori. Ma non c'è nessun bisogno di disturbarli Benjamin ripete Anna avvertì la sensazione che mia moglie per un motivo a me ignoto non desiderasse che io mi recassi alla bazzia ma non aggiunse altro e per il momento la cosa si fermò lì. Poco dopo andai a coricarmi mia moglie ha l'abitudine di stare alzata fino a tardi leggendo o ricamando perciò niente di strano che lo facesse anche quella sera. Ho il sonno molto leggero e a una certa ora della notte mi svegliai con l'impressione che qualcuno avesse bussato ai vetri di una finestra. Mi tirai su e seduto sul letto rimasi in ascolto. Udì che al pian terreno infatti veniva aperta una finestra. Guardai l'orologio mancava un quarto a mezzanotte. Ritenendo probabile che mia moglie si trovasse ancora nello studio la chiamai dalla porta della mia stanza. Anna mi rispose immediatamente rassicurato tornai a letto. Il giorno dopo mia moglie mi chiese mille sterline. Sebbene per me questa somma non rappresenti una cifra rilevante l'entità della richiesta non mancò di stupirmi. Logico quindi che fossi curioso di sapere che cosa volesse farne di tanto denaro ma Anna eluse tutte le mie domande buttando la cosa in scherzo. Le diedi l'assegno pensando che dal rendiconto bancario sarei venuto a sapere a chi lei lo avrebbe girato. Proprio dal rendiconto che mi arrivò un mese dopo appresi che mia moglie aveva incassato quell'assegno personalmente e di conseguenza io continuai a ignorare dove fosse andato a finire quel denaro. La scorsa notte questo strano enigma si è arricchito di un nuovo episodio. Come l'altra volta verso mezzanotte sono stato svegliato da dei colpetti bussati ai vetri. Stanotte però sono sgattaiolato in corridoio non appena ho sentito aprire la finestra. L'ho sentita anche richiudere mentre scendevo le scale. Da basso nel vestibolo potevo scorgere proiettata dalla lampada e distorta dalle fiamme del caminetto l'ombra di mia moglie. Sembrava che stesse leggendo qualche cosa. Le mie considerazioni vennero bruscamente interrotte da un gemito soffocato. Contemporaneamente vidi lei che cadeva a riversa verso il caminetto e mi precipitai a soccorrerla. Era svenuta. Chinatomi notai che il foglio di carta che stava leggendo sfuggitole dalle dita era caduto tra le fiamme e stava per essere incenerito. Ciò nonostante lo afferrai smorzai le lingue di fuoco con le mani e sul pezzetto di carta non distrutto dal fuoco lessi. 50.000 sterline immediatamente. Che cosa succederebbe se parole senza nesso certo ma comunque sufficienti a darmi la sensazione che mia moglie suo malgrado si trovasse coinvolta in chissà mai quale pasticcio. Mi ricordai subito delle mille sterline del mese precedente e pensai ai ruderi dell'abbazia. Il mio estinto mi dice che le rovine della palude sono in qualche modo connesse con questo mistero. Gli inquilini dell'abbazia non si sono mai fatti vedere e durante il giorno il posto sembra disabitato. Mia moglie intanto si stava riprendendo. Non appena ebbe recuperato i sensi guardò verso il caminetto e questo mi indusse a non far parola del foglietto. Secondo me qualora avesse avuto intenzione di mettermi al corrente lei stessa me ne avrebbe parlato cosa che non fece. non riuscivo a spiegarmene il motivo se non supponendo che circostanze veramente diaboliche le impedissero di confidarsi con me. Una condotta scorretta da parte sua nei miei confronti è assolutamente da escludersi ne sono sicuro come soltanto un marito può esserlo. Mi ha dato infinite prove della sua dedizione e mi auguro di averle dato a mia volta tutte le ragioni per farle ritenere che io ricambio pienamente il suo amore. Stamane signor Pons mia moglie mi ha chiesto 5.000 sterline ho nicchiato un poco ma ho finito col darle il denaro che chiedeva. Subito dopo sono tornato in città e ho raccontato tutto a Lord Crichton che mi ha consigliato di rivolgermi a voi descrivendovi come la discrezione fatta persona perciò sono passato di qui e ho lasciato il mio biglietto da visita. Ora che avete ascoltato la mia storia forse accetterete di essere nostri ospiti a Norcross Towers in qualità diciamo di amici con i quali ho rapporti di affari. Esaminando la situazione sul posto avreste maggiori possibilità di chiarire questo mistero. Appoggiandosi alla spalliera della seggiola Menton fissò lo sguardo su Pons La faccenda degli aspetti interessanti osservò il mio amico non vedo ragione per rifiutare Potete venire subito con me? Credo di sì prima però vorrei farvi alcune domande Dite pure signor Pons Se ben ricordo vostra moglie da signorina si chiamava Anna Renfield ed era considerata una delle figure più in vista nell'alta società Non vi è venuta in mente la possibilità che la stiano ricattando per qualche errore commesso in passato? Sì ma a meno che io non abbia preso un grosso abbaglio rispose Menton in tono fermo Mi risulta che Anna era portata ad esempio per il suo comportamento assolutamente irreprensibile Pons assentì e parve riflettere per alcuni istanti avete detto di aver sposato Lady McFellon sei mesi dopo la morte del primo marito eravate al corrente della situazione finanziaria del defunto Scott McFellon il nostro ospite Annui quando sono venuto in Inghilterra sette anni fa e ho conosciuto con lei che oggi è mia moglie ho appreso che gli affari di suo marito andavano a rotoli al punto da rendere indispensabile la vendita di Norcross Towers allora voi ignoravate che altri fattori contribuivano a rendere precari alla situazione di McFellon al momento della sua morte quali ad esempio domandò Menton la sua scorrettezza nei riguardi di amici e finanziatori molti di loro subirono perdite considerevoli a causa di certe sue imprudenti se non delittuose iniziative menton scosse la testa non ne sapevo nulla potrebbe anche darsi che alcune persone abbiano scoperto o forgiato delle prove per dimostrare che la moglie era in combutta con McFellon e forse è questa l'arma usata per il ricatto vivamente indignato menton balzò in piedi mi rifiuto di prendere in esame un'ipotesi del genere signor Pons disse seccamente neanche per un istante posso accettare l'idea che Anna sia stata immischiata in un qualsivoglia intrigo di McFellon se è con questa idea in testa che venite a North Cross Towers signor Pons disse scuotendo energicamente il capo è meglio lasciar perdere tutto immediatamente no il passato di Anna è immacolato e anche se McFellon era un disonesto o un criminale credete a me lei non ne sapeva niente certe cose non dovete nemmeno pensarle dimenticate che io sto unicamente prospettandovi eventuali spiegazioni non è affatto da escludersi che vostra moglie caduta nella trappola di prove contraffatte tema che uno scandalo anche se basato su delle menzogne possa nuocere al vostro buon nome e danneggiare i vostri affari il volto di Menton si illuminò signor Pons credo che abbiate fatto centro esclamò questo deve essere il motivo per cui non ha voluto dirmi niente ha avuto paura di danneggiare la mia posizione non potrebbe esista né un altro perché lei sa bene che nulla potrebbe mai creare una frattura fra noi due non sono affatto certo che la mia supposizione corrisponda a verità obiettò Pons sto semplicemente prendendo in considerazione le varie possibilità ce ne sono altre da esaminare Pons allungò una mano per prendere il telefono e chiamò Scott Randiard ero seduto accanto a lui perciò udì distintamente la voce che giungeva dall'altra estremità del filo voce che riconobbi per quella dell'ispettore Jameson Pons gli chiese informazioni su McFellon e mentre aspettava che l'ispettore gli fornisse i dati richiesti noi tutti rimanemmo in silenzio quando li agganciò il mio amico sorrise in modo piuttosto misterioso a quanto pare per McFellon la morte è stata una via d'uscita il giorno prima che la palude lo inghiottisse era stato emesso un mandato di cattura a suo carico se fosse uscito vivo dal suo tuffo nello stagno oggi sarebbe in prigione santo cielo signor Pons esclamò Menton che mia moglie non venga mai a saperlo non credo che abbia mai anche minimamente sospettato le malefatte di McFellon Pons annui e si alzò per vestirsi in modo adatto al lungo viaggio in macchina che stavamo per intraprendere North Cross Towers una vasta costruzione asimmetrica situata poco lontano dalla strada nazionale era la tipica casa di campagna inglese la scorciatoia che Menton aveva fatto costruire attraverso la palude collegava appunto la nazionale al villaggio di Acton senza dubbio la proprietà prendeva il suo nome dalle due torrette gemelle che si elevavano al di sopra del primo piano sul retro dell'edificio la villa costruita con massi di pietra acquisiva un fascino particolare dalla profusione di edera che con i suoi tralci si arrampicava in alto abbarbicandosi alle vecchie mura mentre ci inoltravamo lungo il viale lastricato notai che tutte le finestre a pian terreno erano situate in basso quasi raso terra la signora Menton aveva i capelli biondi biondo cenere come si dice abitualmente i lineamenti belli e delicati e una figura snella non aveva perduto né il comportamento dignitoso né la singolare bellezza che avevano contribuito quando era ancora signorina a fare di lei una personalità fra le più in vista nell'alta società ci ricevette nello studio di Menton e le fummo presentati come agenti di cambio ma con il nostro vero nome perché Pons riteneva improbabile che potesse conoscerci di fama quando arrivammo a Norcross Towers era già caduto il crepuscolo perciò il nostro primo compito fu quello di partecipare alla cena restammo a tavola circa un'ora chiacchierando di titoli e di azioni argomento sul quale Pons era molto più informato di quanto io supponesse e commentando con la padrona di casa i fatti del giorno finito di pranzare Pons e io dopo esserci scusati con la nostra ospite ci ritiramo subito nella nostra stanza avendo in programma qualche ricognizione notturna il mio amico aveva insistito perché ci sistemassero al pian terreno non aveva nessuna voglia di scendere e salire le scale durante le sue furtive ispezioni quando fummo nella nostra camera Pons tirò un sospiro di sollievo sostituì il vestito con una vecchia cacciatora e senza dimenticare il fucile scavalcò la finestra che dava su una terrazza rimasi a guardarlo mentre si inoltrava nei prati per portarsi sulla strada che attraversava la palude e in attesa del suo ritorno mi dedicai alla lettura era mezzanotte passata quando egli rientrò alla chetichella io sonnecchiavo sulla poltrona con un libro abbandonato in grembo mi svegliai di soprassalto e me lo ritrovai davanti che mi guardava con un sorrisetto indulgente mentre si toglieva la giacca del vestito da caccia scommetto che siete andato alla vecchia abbazia azzardai ponza sentì è vero che c'è un ammalato laggiù è coricato su un letto improvvisato e se non sbaglio è agli sgoccioli non so di che cosa soffra ma la malattia lo ha completamente distrutto non può avere più di 40 anni e ne dimostra 60 e il suo custode un omaccione ma non è certo di campagna credo che non sarei lontano dalla verità affermando che nei bassi fondi di Londra deve trovarsi nel suo elemento c'è anche il medico un pezzo d'uomo dall'aspetto un po' più raffinato veste bene porta occhiali a pansnè appesi ad una catena d'oro e il suo sguardo sembra affascinare o per meglio dire ipnotizzare non saprei bene come definirlo salvo che il tipo d'uomo che messo alle strette può diventare molto pericoloso non ci terrei proprio a coltivare la sua amicizia sebbene il paziente avesse l'aria di ribellarsi alla segregazione nell'insieme le apparenze confermano quanto è stato dichiarato si tratta cioè di un esperimento per la cura di una malattia psichica o fisica che sia purtroppo non ho potuto udire una parola di quanto dicevano parlavano a bassa voce e la stanza era ermeticamente chiusa fra parentesi usano soltanto quella è possibilissimo che ci siamo spinti troppo in là prospettando l'ipotesi di una collusione fra ignoti ricattatori e il terzetto ma c'è un'atmosfera molto sospetta intorno a quei tre ho l'impressione di averli già visti precedentemente ma che io sia dannato se riesco a ricordarmi dove e quando la collusione deve esistere intervenni io matto o no non vedo per quale ragione un malato debba essere sottoposto ad un trattamento del genere quel disgraziato diventerà tisico in quell'ambiente malsano è assolutamente assurdo tisico esclamò pons sì il paziente mostra tutti i sintomi del tubercolotico e se lo è quel suo dottore è medico come lo sono io questo vorrebbe dire che la presenza del paziente è assolutamente indispensabile per concretare il ricatto potrebbe essere lui la mente direttiva ma è poco verosimile che abbia messo a repentaglio la sua vita fermandosi laggiù con un'alzata di spalle pons concluse beh dormiamoci sopra il giorno dopo pons prese da parte mento credete che sia possibile farmi parlare con quel servo che accompagnava mcfellon il giorno in cui è morto caspita sono anni che quel poveretto è andato all'altro mondo due giorni dopo che il suo padrone sprofondò nella palude gli prese un colpo apoplettico per un momento pons rimase come pietrificato fissando il nostro ospite con gli occhi spalancati dallo stupore la pipa che minacciava di cadere dalla bocca semiaperta poi dandosi una manata sulla fronte esclamò che idiota che sono senza aggiungere parola uscì dalla porta finestra dello studio e mentre mentone ed io l'osservavamo attoniti scomparve alla nostra vista nella nebbia serotina dirigendosi verso i ruderi dell'abbazia pensate che abbia scoperto qualcosa domandò mentone guardingo se non sbaglio di grosso sì pons sta manifestando tutti i sintomi che gli sono caratteristici quando trova una pista importante e forse conclusiva al suo ritorno pons era euforico aveva ritrovato il suo garbo disinvolto e colmava di attenzione la signora menta quella sera manovrò in modo di sedersi accanto a lei e l'intrattenne amabilmente durante tutto il pranzo al momento di alzarsi da tavola egli l'aiutò a spostare la seggiola e ne approfittò per mormorarle all'orecchio poche parole che per quanto sussurrate io riuscì ad afferrare è morto questa notte di tubercolosi credo che se pons non l'avesse sorretta la signora menton sarebbe caduta al suolo ma si riprese rapidamente menton pertanto non si accorse di nulla e la padrona di casa si scambiò col mio amico uno sguardo d'intesa che senz'altro alludeva al marito dopo che la signora ci ebbe lasciati soli si rivolse a menton e flemmaticamente gli disse credo che la vostra deliziosa consorte non verrà più importunata da quei furfanti che si erano arroccati nella palude avete chiarito il mistero allora chiese menton ansiosamente direi proprio di sì in nome del cielo di che cosa si sono serviti per far pressione su Anna di documenti falsi caro signore una falsificazione molto ben elaborata povera Anna ma è finita a quest'ora devono essere già lontani sulla strada dell'espatrio come? esclamò menton balzando in piedi dicono gli avrete lasciati scappare date le circostanze ho pensato che fosse meglio così disse Pons con caro salma quei delinquenti non avrebbero mancato di far scoppiare uno scandalo tirando in ballo McFell o nei suoi affari poco puliti che essi conoscevano molto bene accigliandosi menton annui sedetevi amico mio e lasciate che vi racconti il diabolico imbroglio ordito da quegli impostori per raggirare vostra moglie menton ansioso di sapere obbidì due lestofanti al corrente delle vicende di McFell conosciuto un tale che somigliava moltissimo al primo marito di vostra moglie lo indussero ad assumere la personalità di McFell per collaborare ad un piano ricattatorio ai danni dell'attuale signora menton il piano consisteva in questo prendere contatto con la signora per raccontarle l'ingegnosa storiella che il marito non era scomparso nelle sabbie mobili della palude secondo i ricattatori egli sarebbe fuggito sul continente per sottrarsi alle conseguenze di alcuni suoi funambulismi in borsa certi fatti sgradevoli li definirono parlando con vostra moglie sempre secondo la loro storia quei tali avrebbero incontrato McFellon sul continente lo avrebbero convinto a tornare insieme con loro in Inghilterra e dopo un certo tempo lo avrebbero costretto a rivelare la sua presenza a vostra moglie per mezzo di lettere è chiaro che queste lettere apocrife furono compilate falsificando accuratamente la scrittura del vero McFellon e da lì avrebbe preso via il ricatto da prima richieste di piccole somme poi pretese di importi sempre maggiori che la signora sarebbe stata costretta ogni volta a sborsare spinta dalla paura che la presenza del primo marito qui tra le rovine dell'abbazia si resa nota provocasse uno scandalo per bigamia quando circa un mese fa i ricattatori cominciarono a mettere in opera il loro piano tutto andò liscio vostra moglie credendo alla loro fantasiosa storia divenne una facile preda chissà fin dove sarebbero arrivati quei mascalzoni se sfortunatamente per loro il tizio scelto per fare la parte di McFellon non fosse stato malato di polmoni l'aria satura di umidità della palude ha dato il colpo di grazia alla sua salute è morto proprio questa sera ed è stato seppellito nel pantano i furfanti se ne sono andati e il mio consiglio signor Menton è quello di non far parola della faccenda con vostra moglie presto si renderà conto che i suoi guai sono finiti e si sentirà più a suo agio credendo che voi ignoriate tutto Pons tirò un sospiro di sollievo e adesso andiamo a dormire perché vorrei essere a Londra di buon'ora domani che strana storia avevano inventato commentai una volta rientrati a casa e di nuovo nel nostro solito studio però in un certo senso anche molto intelligente l'affermazione che McFallon fosse fuggito avvalendosi della complicità del suo servitore è perfettamente verosimile se si tiene conto che stava per essere arrestato altrettanto verosimile la sua supposta permanenza sul continente il suo incontro con quei farabutti e il fatto che non potesse più tornare in Inghilterra perché sua moglie all'oscuro di come stessero realmente le cose a causa della morte improvvisa del servitore si era risposata e lui che per un residuo di onestà si era imposto di starsene lontano per tutti questi anni costretto a collaborare al ricatto perché completamente soggiogato da quegli individui caspita tutto effettivamente è collegato con una logica perfetta esclamai sinceramente ammirato mi interruppi bruscamente e guardai Ponce nella mezza luce della stanza il suo volto appariva grigio spettrale accidenti Ponce gridai era tutto vero quell'uomo era davvero Scott McFellon e non un sosie ingaggiato per impersonarlo non è così dalla prima all'ultima parola amico mio confermò Ponce con una sola variante piuttosto che essere lo strumento delle sofferenze di sua moglie McFellon ha preferito togliersi la vita adesso riposa in pace nel fango e nessuno saprà mai che non è stato là in fondo anche durante tutti questi anni santo Dio e voi avete permesso che quegli scellerati tagliassero la corda Ponce volse verso di me uno sguardo impenetrabile ho dovuto farmi forza per non strozzarli con le mie mani ma ci sono altre strade e migliori per risolvere queste faccende stamattina ho telegrafato a Jamison verranno arrestati a Dover Gli audio racconti serie Solar Ponce L'enigma di Norcross di August Derlatt Letto da Adamo la domanda ho telegrafato codi